Il Governo rimane nell'ambito di quello che ha già deliberato il Parlamento rispetto alla deliberazione 1973 dell'ONU e quindi è in attuazione a questo. Di questo ha dato atto poco fa in una dichiarazione anche il Presidente della Repubblica e quindi non introduciamo dei salti di qualità rispetto ad una linea che nei suoi elementi essenziali era stata già discussa in Parlamento.